Ancora due interventi finanziari di protezione civile sono stati deliberati oggi dal governo su proposta del ministro Nello Musumeci riguardanti l'Emilia Romagna e la Calabria. Nel primo intervento si spiega proprio in una nota del ministero della protezione civile il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna per l'eccezionale data di maltempo verificatisi il 23 ottobre e i primi di novembre dello scorso anno. Per affrontare le prime spese è stata stanziata la somma di 11 milioni e 800 mila euro. Si procederà con ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile acquisita l'intesa della Regione in deroga ad ogni disposizione vigente. L'altra delibera riguarda lo stanziamento di 15 milioni e 650 mila euro per far fronte agli interventi calamitosi che tra la fine di novembre e i primi di dicembre del 2022 hanno interessato alcune aree della provincia di Crotone, Catanzaro e Cosenza. Le somme si aggiungono a quelle già stanziate dal governo nel maggio scorso per un importo di 3 milioni e 250 mila euro.